Beatrice di York è tornata a parlare di un tema che le sta molto a cuore, ovvero la dislessia. Ecco le sue dichiarazioni soprattutto sul figlio che aspetta. Beatrice di York, prima figlia di Andrea di York e di Sarah Ferguson, è tornata a parlare di un argomento che le sta molto a cuore. Infatti, la quinta nipote della regina Elisabetta da piccola ha sofferto di dislessia. Aveva sette anni quando le è stata diagnosticata ma per lei non è stato un problema. Da poco ha compiuto 33 anni e da qualche settimana ha annunciato che è in attesa del primo figlio con il marito Edoardo Mapelli Mozzi. Proprio per questo è più sensibile verso alcuni argomenti. Della dislessia è tornata a parlarne in occasione dell'iniziativa digitale Back to School con Giovanna Fletcher. La principessa ha raccontato com'è stata la sua infanzia e ha rivelato che cosa farebbe se anche suo figlio fosse dislessico. Ma ecco qui di seguito tutte le sue dichiarazioni. Spesso ha parlato della dislessia sfruttando la sua posizione. Questa volta ha raccontato com'è stata la sua infanzia. Ecco le sue parole. Quando ero piccola nessuno mi ha fatta sentire inferiore e il collegio che frequentavo mi ha sostenuta moltissimo. Ma la vita di tutti i giorni era comunque complicata. La principessa notava la differenza con gli altri bambini, che erano sempre davanti a lei, più bravi di lei, quindi si sentiva a disagio. Si faceva molte domande e desiderava che quel disturbo volasse via. Ma adesso, se potesse tornare indietro, direbbe a quella bambina che non è un disturbo, ma un dono. È una parte grandiosa del modo in cui funziona il tuo cervello. Noi guardiamo il mondo in maniera differente, siamo creativi e intraprendenti. Se suo figlio fosse dislessico, dunque, lo considererebbe un dono speciale e farebbe di tutto per non farlo sentire diverso. Da tempo la principessa si sta adoperando per far sì che nessun bambino possa sentirsi solo e che bambini e genitori possano avere gli strumenti giusti per affrontare la dislessia.